Salve a tutti e benvenuti sull'occhio del cineasta dedicato al mondo dell'onvidio. Sono Stefano e oggi esploreremo l'edizione Steve Book di Mystic River, distribuita da Anna Wanelbloss, in occasione del ventesimo anniversario dell'uscita di questo film diretto da un grande maestro del cinema contemporaneo, Clint Eastwood. Mystic River è un trinne che emana una rara intensità emotiva, interpretato da un cast stendale, con Sam Pinn, Tim Robbins e Kevin Bacon. Il film ha riscosso un ottimo successo, ottenendo numerose candidature e vincendo due premi Oscar, tra cui Miglior Attore Protagonista, Sam Pinn, e Miglior Attore Non Protagonista, Tim Robbins. Queste per i libri sono e disponibili al prezzo di 24,99 euro. Darsi i nostri del film è la medesima. 1975, nella periferia di Boston, tre ragazzini vengono adescatti da un individuo che violenta uno di loro, da quel momento il suo rapporto con gli altri due amici non si ristabilisce più. A livello estetico, questa edizione è davvero presevole, con uno steatbook che riproduce fedelmente la doccandina originale del film. Anche la grafica del retro e dell'interno dello steatbook è straordinariamente realizzata e in grande impatto visivo. Anche la grafica del retro e dell'interno dillo steatbook è straordinariamente realizzata Il disco presenta un menu statico in lingua inglese, in linea con lo stile minimalista delle lezioni Warner Bros, con sessioni per il film, la lingua, le sene, un totale di 36 e i contenuti spesali. Il film, nella durata di 138 minuti, offre una qualità video in 1080p, 241, di notevole DTS avvisiva, d'audio e eccezionale, con un DTS HD Master Audio in 5.1 per inglese e un ottimo 5.1 per l'italiano. Da notare la presenza di numerosi sottotitoli, inclusi l'italiano, anche per non udenti, l'inglese e il tedesco. L'elemento di maggior spessore per gli appassionati del film sono i numerosi contenuti spesali Mystic River, Beneath de Sulfos, 22 minuti e 52 secondi, Bravo TV spesa, 1.6 minuti e 32 secondi e le interviste, all'incirca 1 ora e 50. Se siete appassionati di Mystic River o desiderate esplorare questo coinvolgente thriller con un cast eccezionale, non lasciate di sfuggire questa impendibile edizione Steelbook, troverete i link affiliati nella descrizione qui sotto per aggiungere questa gemma alla vostra collezione. e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale per non perdere le ultime esenzioni e unboxing delle migliori edizioni o un video. Grazie per averli seguito su L'Occhio del Sinasta e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie per avermi seguito su L'Occhio del Sinasta e ci vediamo al prossimo video.